Carna e bovina piemontese al centro di alcune speculazioni nell'ultimo periodo ce ne parla il direttore di Asprocarne Piemonte Simone Mellano. La pandemia del coronavirus sta portando danni agli allevatori di bovini, calano i consumi, gli animali capi restano più a lungo in stalle e si riducono i prezzi riconosciuti agli allevatori. Asprocarne Piemonte ha preso alcune iniziative per far fronte alle difficoltà di mercato portate dall'emergenza coronavirus. Asprocarne ha chiesto alle istituzioni, alla Regione Piemonte, al Governo e anche alla Comunità Europea misure di sostegno per la certificazione e la promozione del prodotto carne e un aumento di premi accoppiati. Nesta di più Simone Mellano, direttore di Asprocarne Piemonte. Asprocarne Piemonte si è mossa subito a cercare di far fronte a queste difficoltà del mercato. Lo abbiamo fatto sollecitando i vari organi e le varie istituzioni sia su base regionale che a livello nazionale. Ricordo che Asprocarne Piemonte fa parte di un coordinamento nazionale ed è costituito alcuni anni fa che si chiama Consorzio Italia Zotecnica, il quale è diventato poi col tempo un'organizzazione di associazioni di produttori e che fa parte a sua volta dell'interprofessione nazionale della carne bovina, Intercarne Italia. Questi organismi si sono ritrovati nelle settimane di pandemia, chiaramente attraverso videoconferenze per discutere i problemi del mercato nelle varie regioni. Abbiamo condiviso le difficoltà e abbiamo sollecitato il Ministero e gli altri organismi nazionali a intervenire per dare una mano agli allevatori. Per parte nostra Asprocarne in regione Piemonte ha sollecitato già da tempo l'assessore all'agricoltura e gli uffici predisposti affinché si prendano carico delle difficoltà e si riesca ad intraprendere un percorso per attuare delle misure di sostegno al mercato e agli allevatori, sia attraverso le misure del PSR, quindi chiediamo un intervento sulle misure 3.1 e 3.2 a supporto della certificazione del prodotto e a supporto della promozione. Poi chiediamo anche un intervento a livello nazionale perché si vada in Europa a chiedere un aumento dei premi accopiati sull'articolo 52, uno strumento che negli anni è servito a mantenere attivi gli allevamenti. Questo premio attualmente è intorno ai 60 euro, chiediamo che possa diventare anche 90-100 euro a capo, in modo che queste perdite dovute ai cali di prezzi vengano in parte compensate già con il prossimo anno e la prossima campagna di aiuti.